allora ciao a tutti oggi siamo al 13 di maggio e vi volevo far vedere questo attrezzo che è da tantissimo tempo che volevo provare perché ha la capacità di fare un taglio netto all'erbano riesce a fare un taglio perfetto questo l'ho tagliata ieri questo lo sto tagliando adesso e in realtà l'ho comprato anche perché qualcuno su facebook lo consigliava e perché diceva che se dovevi tagliare l'erba vicino agli alberi queste lame qui non avrebbero fatto nessun danno al al tronco dell'albero cosa che invece non è vero quindi questo è chiamato reciprocatore questo vabbè della eco anche se in realtà non è la eco che lo produce un'azienda in giappone infatti lo potrete trovare anche sotto diverse marche ha un costo altissimo perché si parla più di 300 euro che è una roba esagerata io l'ho comprato perché lo volevo provare e poi ho pensato che se non mi andava bene lo rispedevo indietro ma sono lì lì per pensare di riportarlo indietro perché in realtà è un attrezzo estremamente utile ma è un attrezzo più da giardinaggio che da ciò che devo fare io che però in realtà mi risparmia diciamo almeno il 50 per cento del tempo perché se lo devo fare con il falcetto ci metto tantissimo e anche energia fisica ma in realtà non avendo mai provato nessuna lama normale nel decespugliatore come le lame come le tre lame o comunque la lama rotante non so dire quanto realmente questo sia migliore sicuramente è migliore rispetto alle lame ma a livello di qualità prezzo non lo so perché le lame comunque possono costare 20 30 euro questo invece è un proprio un sistema di bagno ad olio con i denti una piastra sopra una piastra sotto che gira nel senso opposto e quando l'erba passa lì in mezzo viene tagliata quindi è come se fosse una una falciatrice rotante il mio obiettivo era quello io ho dei problemi con l'erba all'interfilare guardate qui adesso poi faccio vedere mentre al lavoro che non so come fare proprio perché l'unico mezzo che ho tagliare la mano se no uso la frusta cioè il filo di nylon che però quando è così alta un po difficile o se no le lame mi sa che se riesco a comprare anche le lame così vedrò vedere riuscirò a vedere qual è la differenza niente questo volevo un attimo parlarvi fare un riassunto su questo attrezzo perché non è male in realtà non so dipende da ognuno perché i prezzi sono alti se fosse un prezzo più basso sarebbe un attrezzo davvero assolutamente comunque un attrezzo utilissimo ecco i difetti sono sicuramente il costo l'altro difetto che ancora questo ci vorrà ci sarà ci vorrà tempo per dirlo dicono che ogni 10 ore bisogna filarlo che non è neanche così tanto un problema ma nel manuale di istruzione dicono che ogni 30 40 ore bisogna cambiare le lame cosa pazzesca no perché le lame tra l'altro non sono non riescono anche a trovarle su internet e l'ho trovata in un sito estero e dice 80 euro quindi dopo 30 40 ore di utilizzo che vabbè sono tante però già cambiare le lame mi sembra un po esagerato quindi questo attrezzo il lavoro che fa è dignitoso mi permette veramente di risparmiare del tempo il taglio è perfetto è proprio un taglio veramente netto netto che fa sì che l'erba si ricicatrizza e possa ricrescere ormai sono due anni che non compro più la paglia quindi utilizzo solo questa pacciamatura e niente questo ragazzi era credo che la questione della della meccanica degli attrezzi dei macchinari siano una cosa importantissima almeno per quanto vedo io queste sono attrezzi da chiaramente da piccole aziende agricole non credo che uno che abbia una media grande azienda agricola vada a togliere l'erba con il decespugliatore ci sono quei macchinari no che evitano il tronco e tagliano in mezzo all'interfilare o sennò di serbo noi di serbo non ci interessa quindi macchinari grandi che tagliano l'erba tra i tronchi ci sono e quindi niente questo però può essere utilizzato una piccola azienda fa un taglio perfetto vi faccio vedere anche se dovete fare uno sfalcio per raccogliere il fieno ma non avete non avete un motocoltivatore potete raccogliere piuttosto velocemente il fieno con quella attrezza facendo un taglio veramente ottimo perfetto guardate che taglio questo l'ho fatto con il reciprocatore che avete visto prima guardate che taglio questo è il fieno già quindi quindi questo è l'attrezza ok adesso vado a finire perché finalmente mi sa che verrà a piovere qui c'è tantissimo lavoro da fare e vi volevo tenere aggiornati anche su varie sperimentazioni cioè volevo comprarmi una falciatrice ma costa troppo allora ho deciso di prendere questo che è una via di mezzo ma forse non so ci ho fatto bene però almeno sperimentiamo quindi reciprocatore ho chiamato anche power power rotary scissor ciao a tutti ho chiamato anche su varie scissor ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, vedete, quindi questo qui è la velocità in cui riesco a tagliare l'erba nel filare. Il taglio è, ripeto, perfetto. Bisogna stare estremamente attenti agli alberi perché in realtà è molto pericoloso, molto più pericoloso della frusta forse. Però per il resto è magnifico perché taglia l'erba altissima. Quindi c'è i suoi pro e i suoi contro. Ok? Potete montarlo su qualsiasi decespugliatore, quasi tutti. Lo trovate su internet se vi interessa. L'unico problema è che no, potete tagliare anche qui in mezzo, però dovete sapere cosa c'è se ci sono degli alberi. Quindi segnalate sempre gli alberi se volete tagliare in mezzo. Se no andate col falcetto dove siete molto molto vicini al tronco.